ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di tech princess siamo sempre a mobile world congress 2017 che finalmente si sta per concludere qui a barcellona mi sono recata nuovamente allo stand di htc perché io volevo mettere le mie manacce di nuovo su htc ultra questa volta però guardiamo un po meglio l'interfaccia dello smartphone ma soprattutto proviamo a fare dei selfie panoramici vediamo un po come ce la siamo cavata ecco l'unica cosa mi dispiace un pochino vedrete un po di riflesso sul display dello smartphone ma mi volete bene lo stesso lo so dai vediamo comandata ecco il nuovo htc ultra con doppio display perché voglio farlo vedere perché secondo me è assolutamente utilissimo e quasi indispensabile perché vi permette di non avere per esempio notifiche fastidiose mentre state usando le vostre applicazioni preferite ok per esempio se aprite facebook in questa maniera avrete comunque lo schermino in alto che è totalmente indipendente dal dal display quello grande insomma e la cosa molto bella è che le notifiche non intaccheranno il display quindi non vi appariranno qua sopra dandovi fastidio mentre guardate i video fate qualsiasi altra cosa ma compariranno nella parte superiore nel piccolo display display che è assolutamente multifunzione perché vi permette di avere non so gli appuntamenti di avere i vostri contatti preferiti la musica ma anche il meteo cosa abbiamo d'altro alle app preferite che assolutamente fondamentale indispensabile quindi mettete le vostre le scegliete voi quali sono le vostre app preferite e potete passare da un'app all'altra con un semplice tocco secondo me questa cosa è geniale e mi piace davvero tanto vero luca è fighissimo in questo telefono hanno già impostata adesso vi faccio vedere per esempio come impostare il le app schiacciate sul più quando c'è più vuol dire che è vuoto non c'è nulla e assegnate ciò che preferite per esempio non so mettiamo una calcolatrice per esempio per me che ho litigato con la matematica quando ero bambina altra cosa bellissima di questo htc ultra è il la feature liquid surface stavo parlando prima con un ragazzone che c'è qua alla mia destra tipo lui gli ho chiesto di spiegarmi bene in che cosa consiste il liquid surface mi ha detto semplicemente che sotto al vetro del della back cover sono ci sono diversi strati di colore questi strati di colore quando vengono colpiti dalla luce fanno sembrare il diciamo la cover come se fosse una come si chiamano le le bolle di sapone ecco non mi veniva il nome avete se avete presente una bolla di sapone capirete come la luce e i colori che riflette cambiano in questo momento ho in mano un black ma se lo vedete bene ogni tanto ha delle degli sprazzi di verde e ogni tanto degli sprazzi di blu sprazzi ti piace bravo ok l'unico problema vero che vedo in questo momento è che le impronte si vedono tantissimo ed è una roba che a me da particolarmente fastidio perché sono una di quelle che deve avere sempre tutto perfettamente pulito e luca ne sa qualcosa altra cosa di questo htc ultra è la fotocamera che è da 16 megapixel sia sulla parte frontale sia sulla parte posteriore sulla parte frontale oltretutto abbiamo perché non ci sono sulla parte frontale inoltre abbiamo l'oltre pixel saluta luca ciao 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 che è selezionabile da questo menu andando nel menu dove è dove 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 perché perché l'abbiamo perso chi è chi è chi è no no selfie foto ok selfie foto e da qua potete scegliere allora l'hai rotto ecco qua potete scegliere la modalità quindi abbiamo un 11 9 megapixel 16 noni 16 noni 4 megapixel 2 megapixel 16 megapixel e ultra pixel dovremmo venire veramente bellissimi dei mostri praticamente vabbè altra cosa particolare sempre di questo htc ultra aiuto che meraviglia vi faccio vedere dove 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 l'ho perso l'ho perso l'ho perso di nuovo eccolo qua abbiamo il selfie panoramico che è molto particolare ecco sempre per il selfie panoramico dovete avere un sacco di amici perché se non avete gli amici allora uno di qua no perché ti sei spostato aspetta vediamo come è venuto no ho due amici luca biscardi ma si vede un po scuro vabbè comunque potete avere dei selfie a 16 noni e starci tutti nella foto purtroppo siamo venuti bui per questo motivo il costo di questo htc ultra di 749 euro viene venduto solo online io sono curiosa di provarlo secondo te ce la famo si dai se rubiamo su internet senza dubbio ma lo rubiamo qua cioè io a questo qua adesso ci dico che glielo ridò lo distraggo e me lo porto via in tasca ciao 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 ciao